Signori e signore, buonasera e benvenuti al concerto del complesso bandistico Giuseppe Verdi di Castelbiscardo. In un film la colonna sonora viene scritta per essere adattata ad ogni singola scena, ad una particolare inquadratura o per introdurre un determinato personaggio. Nel brano La Storia di Jacob de Haan non ci sono né trame né delle scene, eppure il compositore riesce a fornire una musica piena di azione e di suspense. Gli spettatori diventano parte attiva della costruzione della loro trama, così da poterla adattare alla propria musica. Questo brano è stato dedicato da Jacob de Haan proprio ad Ennio Morricone, e ci rimane facile intuire il perché. La storia. La storia. La storia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.